Sono circa 500 i saloni di parrucchieri ed estetiste della provincia di Pistoia che dovranno stare chiusi almeno fino al 12 marzo a causa del nuovo DPCM in vigore da oggi e dell'ordinanza che prevede il prolungamento della zona rossa. È una notizia terribile per questo settore, sottolinea Confartigianato Imprese Pistoia. Non siamo d'accordo e ci eravamo opposti con fermezza già quando erano circolate le prime ipotesi. Vero che serve prudenza, ma non capiamo perché vengono costrette ad abbassare la saracinesca quelle attività che hanno sempre investito nella sicurezza e che hanno dimostrato di non essere veicoli di contagi. Per l'Associazione degli Artigiani la beffa in questo caso è doppia alla luce della recente sentenza emessa dal Tar del Lazio che un paio di settimane fa ha dichiarato illegittima l'esclusione degli estetisti dai servizi alla persona erogabili in zona rossa. Dura anche l'opposizione al provvedimento di chiusura da parte della CNA.